Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Alda Ringhita. Questa volta un video tutorial su come arrivare a Vassburgo, una città di vasi. Allora, innanzitutto possiamo partire dalla capanna dell'artista vicino all'ingresso della sala studio carriana. Vi invito a iscrivervi al mio canale e lasciare like per supportarmi. Allora, quindi dalla capanna dell'artista scendiamo per di qui e andiamo di qua. Secondo me questo è un posto che in pochi hanno sbloccato perché se non si sta attenti è difficile vedere. Quindi andiamo dentro questa piccola busco. Arrivati qua potremmo scendere. Vedete qua ci sono i messaggi che lo dicono. Quindi attenti perché è molto rischioso. Ok. Tipo prima stavo per cadere. Ok. Attenti eh. Attentissimi. Ok ci siamo quasi. Passburgo. Ok. Qua ci sono molti oggetti interessanti. Scendiamo. Pietraforgatore 3. Abbastanza inutile. però perché inizio il gioco. E qua c'è il luogo di grazia. Lo accendete. Perdi qua. Se andiamo qua dietro. Vediamo cosa c'è qua dietro. Ci sono le rune un po' qua. Sparse. lunaurea 2. Vabbè sono quelle di livello basso. Ok. Non ci interessano. Poi per di qui. Non c'è niente. Ok. Quindi sta parte. Vediamo qua. Cos'è? Vaso inclinato. Una chiave. Vaso inclinato. Vaso rituale. Ecco. Recipiente necessario per creare vasi inclinati. Ok. Qua dietro. Non c'è niente. Foglia capillare. Ok. Su questo tetto ci saliamo. Troveremo un vaso rituale. Un altro. Ok. Scendiamo pure perché tanto. Ok. Qua dovrebbe essere un altro vaso rituale. Vaso inclinato. Qua cosa abbiamo? Scheggia di vaso vivente. E vaso inclinato ovviamente. Se andiamo per di qui. Eh. Niente. Ok. E avanti. Visioni di albero madre. Vediamo se abbiamo raccolto tutto. Ma dovremmo aver finito. Là c'è un oggetto ancora. Mentre ragazzi se mi perdo qualcosa e voi trovate ancora scrivetemi pure nei commenti. Niente. Abbiamo finito la nostra esplorazione di Vesburgo. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente. Se volete altri video tutorial iscrivetevi al mio canale. Lasciate like. Iscrivetevi nei commenti. Ciao. Ciao.